buongiorno a tutti oggi ci divertiamo a realizzare un circuito ripetitore di suoneria telefonica che può essere anche utilizzato per ripetere all'interno della nostra abitazione il campanello di casa con questo circuito infatti è possibile anche rendere wireless il nostro campanello io sono alfredo benvenuti sul mio canale l'idea di questo progetto nasce dalla richiesta di un mio amico che ha una madre molto anziana non più in grado di sentire lo squillo del telefono con questo progetto sarà in grado di ascoltare lo squillo in qualsiasi punto di casa grazie a un trasmettitore wireless collegato alla linea telefonica e a un corrispondente ricevitore da collocare su una qualunque presa 220 volt per realizzare questo progetto oltre al trasmettitore e ricevitore 433 megahertz ci occorre un'interfaccia per telefono fisso che andremo a modificare per renderla più idonea al nostro scopo ho deciso di utilizzare questa interfaccia perché al suo interno è presente un circuito che permette di rilevare lo squillo del telefono questo dispositivo ripete la suoneria del nostro telefono dando anche una indicazione luminosa tuttavia questa suoneria funziona esclusivamente via cavo cioè collegata alla linea del telefono prima di renderla wireless vediamo al suo interno come funziona una cicalina piezoelettrica collegata ad un circuito elettronico realizza una suoneria telefonica supplementare troviamo diversi componenti elettronici discreti che convertono la tensione alternata dello squillo in un segnale utile per generare la melodia il cuore del circuito è l'integrato utc 24 11 questo dispositivo però funziona soltanto collegato via cavo alla linea del telefono per pura curiosità vediamo come funziona questo circuito anche osservando nello schema elettrico partendo da sinistra sulla nostra linea del telefono normalmente sono presenti 48 volt continui provenienti dalla centrale normalmente questa tensione è bloccata dal condensatore c1 in presenza di uno squillo la centrale invia sulla linea una tensione di 100 volt alternati che un tempo erano utilizzati per attivare le suonerie dei vecchi telefoni questa tensione alternata riesce a passare attraverso il condensatore c1 e viene raddrizzata dal ponte raddrizzatore che la trasforma in una tensione minore ma continua i residui dell'alternata vengono filtrati dal condensatore elettrolitico e la massima tensione è fissata dallo zener a 28 volt ma stiamo parlando di un massimo perché la tensione è normalmente si stabilizza sui 24 volt questa tensione continua presente solo durante lo squillo permette di alimentare un circuito integrato specifico che riproduce attraverso la cicalina la suoneria del telefono questo integrato infatti non è che una suoneria telefonica elettronica che dispone di due oscillatori uno per il segnale acuto e l'altro per l'intermittenza di questo segnale acuto questo segnale modulato a bassa frequenza viene riprodotto dall'altoparlante posto in uscita per il mio progetto specifico tuttavia non utilizzerò questo integrato perché non voglio la suoneria via cavo ma una suoneria wireless per questo dovrò collegarci il mio trasmettitore radiofrequenza a questo scopo eliminerò buona parte di questo circuito e lascerò soltanto la prima parte che mi servirà per alimentare il trasmettitore di radiofrequenza una volta capitolo schema elettrico possiamo osservare la presenza di tutti questi componenti sul circuito stampato oltre all'integrato che genera la suoneria il ponte raddrizzatore che raddrizza la tensione di 100 volte i condensatori elettrolittici di filtro più altre resistenze di polarizzazione per questo integrato oscillatore prima di eliminare tutti questi componenti compresa anche la cicalina piezoelettrica per pura curiosità vediamone il funzionamento applicando una tensione continua a questa suoneria con il mio solito alimentatorino variabile fissato ad una tensione di 20 volt vado ad alimentare questo circuito integrato suoneria telefonica in modo da simulare la ricezione di uno squillo telefonico questa suoneria funziona con una tensione minima di 20 volt al di sotto di questo valore non emette alcun suono bene una volta che abbiamo capito il funzionamento di questo circuito elettronico possiamo andare a eliminare tutti i componenti che non ci interessano lasciando soltanto il ponte raddrizzatore e il condensatore elettrolitico di filtro in uscita posso anche eliminare il diodo zener perché da alcune prove effettuate la tensione non supera i 24 volt vado ad effettuare queste dissaldature per velocizzare la dissaldatura di tutti questi componenti utilizzo un apposito fornetto elettrico dotato di termostato di regolazione della temperatura questo fornelletto serve per stagnare i terminali una resistenza riscalda lo stagno presente nel contenitore rendendolo liquido una volta che avrà raggiunto la temperatura permette di dissaldare più velocemente i componenti elettronici e a tal proposito mi raccomando utilizzare sempre una ventola di aspirazione perché vi ricordo che i fumi dello stagno sono altamente tossici qualche secondo di immersione a filo di stagno e con delle pinzette è possibile rimuovere qualsiasi componente elettronico questa tecnica viene utilizzata per recuperare componenti discreti da vecchie schede pcb e permette di dissaldare i componenti elettronici senza danneggiarli vi ricordo che in descrizione inserirò tutti i link per l'acquisto di questi attrezzi che vedete utilizzati nei miei video questa procedura può essere utilizzata ogni qual volta si devono rimuovere grandi quantità di componenti elettronici discreti in maniera veloce e agevole chiaramente dovrete stare attenti perché la superficie del fornelletto è bollente e rischiate di scottarvi consiglio inoltre l'utilizzo di occhiali di protezione al termine lascerò sul circuito stampato soltanto questi componenti che mi permettono di ricavare i 24 volt continui dallo squillo del telefono a questo punto mi procuro il trasmettitore e il ricevitore 433 megahertz venduti come ripetitori wireless di campanello il kit comprende un modulo ricevitore e un modulo trasmettitore in un piccolo modulo smd dotato di antenna e due fili di alimentazione che possono essere collegati ad una tensione sia essa continua o alternata che varia da 3 a 24 volt e 24 volte è esattamente la tensione all'uscita dal ponte raddrizzatore del mio circuito ripetitore di suoneria telefonica il ricevitore invece viene collegato alla 220 in qualsiasi punto della casa dotato di due pulsanti per scorrere tra le 58 melodie e un pulsante per i livelli di volume la portata del trasmettitore dipende dalla sua posizione in generale arriviamo fino a 100 metri più che sufficienti anche per ville con più piani all'interno della stessa scatola troviamo sia il trasmettitore che il ricevitore un manuale di istruzioni in varie lingue attraverso il quale è possibile effettuare i collegamenti al nostro campanello di casa quest'ultimo dovrà essere necessariamente di 24 volt alternati o continui il modulo trasmettitore non accetta tensioni superiori a 24 volt e quindi un campanello 220 volt collegato in parallelo lo distruggerà per ovviare è possibile utilizzare un trasformatore da 24 volt nella confezione troviamo il ricevitore funzionante a 220 volt consumo abbastanza ridotto 0,5 watt infine il modulo trasmettitore molto piccolo smd sul quale troviamo un condensatore elettrolitico di filtro diversi diodi di raddrizzamento e un risuonatore ceramico ai 433 megahertz collegato naturalmente all'antenna di trasmissione che è il cavo di colore grigio mentre i due cavi rossi andranno collegati alla tensione di alimentazione sia essa continua o alternata massima di 24 volte i campanelli elettronici a cui questo circuito è dedicato di solito funzionano a 24 volte alternati ma io l'ho adattato all'utilizzo per la suoneria di un telefono fisso andiamo a collegare questo trasmettitore al nostro circuito privato di tutti i componenti superflui l'assorbimento del modulo trasmettitore infatti è talmente irrisorio dell'ordine di qualche miliampere per cui possiamo alimentarlo con la corrente diretta fornita dalla centrale telefonica con un utilizzatore con maggiore assorbimento avremo dovuto utilizzare un fotodiodo di disaccoppiamento un relais e un alimentatore a parte prima di rimontare il circuito nel contenitore originario vado ad effettuare qualche collaudo andiamo ad alimentare il trasmettitore il ricevitore è già alimentato colleghiamo una tensione di 12 volt a questo circuito per verificarne il corretto funzionamento il circuito funziona correttamente facciamo un'altra prova bene ora che ho verificato il corretto funzionamento posso procedere oltre è il momento di rimontare il tutto per testare sul campo ho scelto di acquistare questo dispositivo piuttosto che farlo da zero perché il suo costo è di gran lunga inferiore al costo dei singoli suoi componenti il contenitore infatti mi permette di ospitare sia il circuito di conversione della tensione che il circuito trasmettitore 433 megahertz per quest'ultimo faccio fuoriuscire l'antenna al di fuori della scatola per aumentarne la portata le antenne lasciate in aria libera infatti danno una maggior portata a qualsiasi segnale radio fisso il tutto con l'utilizzo di colla a caldo sempre con la colla a caldo realizzo una piccola guida d'onda per il led presente sul trasmettitore che segnalerà la trasmissione della frequenza 433 megahertz e sono pronto per un test sul campo prima di effettuare i collegamenti a questo dispositivo trasmettitore in un altro punto della casa lontano dal trasmettitore collego il ricevitore alla 220 volt dall'altra parte ho collegato ad una delle prese rj 11 il telefono e dall'altra la linea proveniente dal muro andiamo ad effettuare una chiamata e vedere se il nostro trasmettitore trasmette correttamente lo squillo del telefono che sarà anche visibile con l'accensione del led chiamo questo numero di telefono fisso il telefono inizia a suonare e lampeggia anche il led del mio dispositivo trasmettitore 433 megahertz che sta trasmettendo il mio segnale in un altro punto della casa il ricevitore inizierà a suonare con i tre pulsanti presenti è possibile scegliere tra 58 melodie e 5 livelli sonori vi risparmio le altre 50 melodie bene e così facendo abbiamo realizzato un ottimo campanello senza fili collegato però al telefono fisso per ascoltare meglio il suono in tutta la nostra abitazione si tratta di una ottima soluzione per tutte quelle persone anziane che non hanno più la capacità di sentire il suono del telefono o del campanello di casa bene amici anche per oggi è tutto se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete like e valutate anche l'iscrizione al mio canale io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima ciao 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 ciao